cari amiche e cari amici buonasera vogliamo comprendere come questa fase 2 cosiddetta che è iniziata lunedì 4 maggio stia segnando da parte di noi tutti una sorta di ritorno alla normalità vorremmo riappropriarci delle libertà individuali collettive che in qualche modo ci sono state negate ma non vogliamo mancare di sottolineare anche il valore di questa prova che stiamo vivendo e provare a raccontarla a partire da chi come me maggiormente esposto vorrei dunque salutare con grande affetto due amici che saranno i primi due testimoni di questo racconto che di settimana in settimana vogliamo provare a fare insieme e dunque leonardo becchetti economista e raffaele bonanni già segretario generale della cisne benvenuti leonardo e raffaele e grazie 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 saluto a tutti non sono certamente nuovi all'interno della grande famiglia del rinnovamento nello spirito perché in più circostanze abbiamo avuto modo di stare insieme e di rappresentare questa amicizia per introdurre questa questa rubrica che va sotto e legida di una espressione di giovanni paolo secondo cultura della pentecoste vogliamo provare a rileggere la realtà che stiamo vivendo con una cifra più spirituale e dunque con quella speranza che anima i cristiani nel tempo della prova e dunque vorrei che raffaele e leonardo ci raccontassero in primo luogo come hanno vissuto questo tempo provando anche a mettere in evidenza le luci che si sono accese anche in mezzo a tante tenebre di sofferenza di prove che tutti noi abbiamo vissuto direttamente e indirettamente e poi dal momento che di economia di lavoro tanto leonardo quanto raffaele trattano proviamo ad entrare dentro questo tema così spidante che sta sotto i nostri occhi e balza agli onori della cronaca più di altri e ci facciamo questa domanda se il tempo del coronavirus questo grande cambiamento che l'umanità sta vivendo può segnare una economia a misura d'uomo fu sempre giovanni paolo secondo a cui dobbiamo l'espressione cultura della pentecoste a dire che nel tempo della crisi la più importante risorsa per l'uomo e l'uomo stesso allora ci chiediamo se tutto questo è possibile è dato di sperimentarlo e che cosa è possibile fare perché ci sia il ritorno ad un'economia più a misura d'uomo dunque direi intanto a leonardo e poi a raffaele di provare a raccontare la loro vita nel tempo del coronavirus grazie salvatore beh in chiave spirituale noi diciamo che esiste il tempo chronos quello dei minuti uno uguale all'altro e il tempo kairos cioè quello dell'opportunità in cui uno valuta un po' l'insieme della propria vita io credo che per me questo è stata una sorta di gigantesco esercizio spirituale una sorta di ritiro ovviamente con tanti elementi anche di paura di 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 dispiacere per tutto quello che vedevo in giro anche se per fortuna a roma tutto è stato attenuato e sinceramente è stata anche la scoperta di tante cose perché diamo per scontato che si debba vivere in un certo modo ecco questo questa situazione che stiamo vivendo ci aiuta a ci vuole far ragionare sul fatto che non è detto che dobbiamo vivere come vivevamo prima si può vivere anche in un altro modo e io direi quasi datemi un limite e vi cambierò il mondo no certe volte il limite è un po' il punto di appoggio per poter fare qualcosa di diverso per me è stato un periodo ecco come si dice straordinario è stato un periodo veramente eccezionale e credo che nella mia generazione di non aver mai vissuto una cosa del genere forse i miei genitori l'hanno avuto con la guerra e quindi credo che lo ricorderò come lo ricorderanno i nostri figli e quindi è stato un periodo veramente particolare ho scoperto tante cose per esempio col col fatto di stare a casa mi è stato regalato del tempo del tempo liberato che è stato un tempo che ho potuto vivere anche per riflettere per pregare e anche per 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 vivere di più più in profondità i miei effetti io ero sempre su treni aerei continuamente sballottato da una parte dall'altra improvvisamente tutto questo tempo mi è stato restituito e ho scoperto che posso fare tre volte le cose che facevo prima questo è un problema quando ritorneremo dopo la fase 2 nel senso che non avrei mai potuto fare tutto quello che sto facendo adesso sia di tempo di relazioni domestiche che di webinar lavoro all'università con i ragazzi e anche lavoro con le istituzioni che prima non riuscivo a fare adesso invece come consigliere del ministro e anche come task force regione lazio ho il privilegio di poter vivere questo tempo guardandolo da tanti punti di vista quello del cittadino ma anche quello del decisore pubblico che deve cercare di risolvere i problemi grazie è interessante la riflessione sul tempo siamo in fondo diretti a pentecoste ed era la domanda degli apostoli quando verrà il tempo e gesù ci dice che non c'è dato di conoscerlo ma certamente ne abbiamo rivalutato riconsiderato in tanti modi il valore a partire come dicevi da nuove relazioni e poi questa dimensione del limite sentito come grazia san paolo dice che proprio nella debolezza quando facciamo esperienza del limite che il limite si trasforma in una grande opportunità in un kairos come appunto tu dicevi raffaele allora la tua testimonianza ma io sono rimasto incastrato felicemente in abruzzo felicemente perché mi trovo meglio qua che a roma e come leonardo ho potuto scoprire un altro mondo la prima cosa su cui ho riflettuto è che noi ognuno di noi credo anche leonardo anche tu possediamo tecnologie digitale almeno da 10 12 13 anni potevamo fare tutto quello che raccontava leonardo lo potevamo fare già almeno 10 anni fa non l'abbiamo fatto perché perché agisce il fatto culturale cioè l'uomo ha bisogno di grandi traumi per fare passi in avanti purtroppo è il mistero della vita è un grande mistero che si svela fino in fondo noi abbiamo superato spazio e tempo in un solo corpo e abbiamo potuto fare tante tantissime cose in più sia sul piano spirituale mai io sono stato collegato così ampiamente e continuamente dalle lodi fino agli appuntamenti serali o discutarsi o di celebrazioni caristiche come come questi tempi mai era successo in una fraternalità che già c'era naturalmente nel rapporto front ancora rafforzata appunto in questo modo e per quanto riguarda il lavoro le conferenze si sfrecano bisogna assolutamente scadenzare scansionare il tempo altrimenti non ce la fai perché le tante relazioni che ognuno di noi ha sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda il lavoro che hai con gli altri o gli impegni individuali e così via devi proprio programmare la giornata comunque si lavora molto 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 di più si viaggia ma per fare una riunione bisogna andare a modena o a milano o a palermo con un dispendio enorme di energie fisiche di energie in denaro e energie intellettuali è molto più semplice molto più rapido cioè la gente si sta abituando a questo in un lasso di tempo pensate di due mesi 60 giorni sembra un secolo in 60 giorni la chiesa cambia i suoi connotati il lavoro di ciascuno ha cambiato fortemente i propri connotati si apre una prospettiva di lavoro di cambiamento enorme che noi dobbiamo saper cogliere io non sono d'accordo con tutta questa gente che si piange addosso e proprio in questi momenti nonostante i lutti i dispiaceri il dolore e così via in questi tempi l'umanità può evolvere nella propria cultura nel proprio utilizzo delle energie che possiede e così via c'è tutto si riallinea lo sviluppo tecnico col nostro modo di vivere perché fino a prima del coronavirus i due aspetti erano disallineati anzi fortemente direi disallineati grazie è quella che noi nel rinnovamento dello spirito dal 27 febbraio perché è da quella data che abbiamo iniziato a rimettere su piattaforma tutto il movimento chiamiamo conversione digitale e in fondo leonardo e dal 2008 che parliamo di crisi in realtà ma crisi è sinonimo di crescita è sinonimo di conversione e come ricordava raffaele e se da una parte ci siamo riscoperti tutti più poveri in realtà questa umanità ferita ci consegna anche il bisogno di una nuova fraternità sappiamo che dal 18 maggio torneremo in qualche modo ad una vita sacramentale seppure regolata e vorrei introdurre il tema della comunità che è un tema che ci sta tanto a cuore anche per le nostre esperienze ecclesiali perché sappiamo che bisognerà ripartire dalle comunità dai territori dunque mi piacerebbe che introducessimo questa riflessione perché economia sa di casa e abbiamo riscoperto il valore della casa il valore della comunità proprio quando c'è ci è tolta ci è sottratta e dunque guardando ai prossimi tempi ai tempi più immediati tu facevi anche riferimento leonardo al tuo impegno e a fianco ai decisori politici tu stesso raffaele per altri versi insomma mi pare sia interessante poter dare alla nostra gente il senso il tenore di quello che sta accadendo e che accadrà nell'immediato salvatore io la parola chiave veramente per dire quello verso cui vogliamo andare quello che abbiamo imparato di cui dobbiamo far tesoro per non tornare al passato è resilienza trasformativa questa è la parola che noi stiamo usando cioè costruire una società più resiliente vuol dire che abbiamo scoperto e che bisogna mettere assieme una serie di dimensioni quella ricchezza di tempo che abbiamo scoperto adesso con lo smart work la salute che ovviamente abbiamo scoperto un bene molto importante la sostenibilità dell'ambiente il lavoro e il valore economico quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati è che tutte le iniziative di polisi che bisogna portare avanti devono intervenire favorevolmente su queste cose non dobbiamo fare cose che mettono in contrasto qui è scoppiato un campanello d'allarme con questa crisi noi abbiamo scoperto una fragilità molto forte di una parte importante del nostro paese agli shock che vengono da una combinazione ambiente salute adesso questo sarà approfondito ma c'è tutto un problema di polveri che esisteva già prima perché 219 morti al giorno secondo l'OMS e tante volte le città bloccate per le polveri quindi l'idea è proviamo a fare delle cose che tengono assieme tutto questo e due parole chiave per noi sono economia circolare quindi un'economia dove noi diciamo dalla culla alla culla cioè dove quello che si fa già è pronto per essere rigenerato nuovamente e quindi per disallineare la creazione di valore dalla distruzione di risorse eccetera e anche il tema appunto che dicevamo prima della dello smart work perché anche questo ci sta rendendo ricchi di tempo io dico che bisogna riscrivere l'articolo 1 della costituzione l'italia è una repubblica fondata sul lavoro diventa l'italia è una repubblica fondata su una combinazione armonica di lavoro pura interpersonale e tempo libero e tempo della formazione cioè questo momento ci sta facendo capire che possiamo diventare artigiani del nostro tempo possiamo costruire il nostro tempo in maniera veramente intelligente ci stiamo impegnando affinché nel prossimo futuro tutto questo sarà possibile il tema dell'economia circolare da cui la sussidiarietà circolare quella che chiamiamo anche fra noi una economia carismatica è tema che ci sta a cuore da tanti anni e ci ha visto impegnati in varie forme di rappresentazione dunque mi pare che su questo bisognerà molto insistere raffaele tu da lavorista ed esperto abbiamo sentito che veniva citata l'articolo 1 della costituzione qualcuno gioca su questa espressione fondata sul lavoro per dire affondata sul lavoro e la questione del lavoro diventa diventa tragica drammatica soprattutto soprattutto al sud quindi pensando a questo rilancio dell'economia circolare della sussidiarietà anche la grande questione del lavoro questa vicenda ci ci mette di fronte a delle scelte davvero coraggiose ma anche convinte io devo essere sincero di fronte alla nostra situazione economica e così via non sono stato molto d'accordo con tante discussioni fatte da una parte contro l'europa come se dovessero appunto regalarci dei soldi quando nell'economia in generale i soldi si prestano quando tutto va bene e devi dare garanzia di restituzione quando tutto va bene non mi va bene il discorso che sta uscendo fuori ancora sul reddito di emergenza che si assumerebbe un altro reddito non è finalizzato al lavoro o addirittura risarcimenti a fondo per tutto alle aziende e così via siccome nel meridione c'è una voragine una voragine che può diventare ancora più pericolosa nel tempo noi dobbiamo fermarci un momento e guardarci negli occhi tutti quanti e capire come non usciamo davvero da questa storia e il meridione ne può uscire molto meglio rispetto a prima se riesce a utilizzare tutti i talenti che ha a disposizione perché il digitale attuale tecniche così via mettono in condizione anche il paese più sperduto dalla sardegna o delle madonie per esempio dalla sicilia e così via di riallinearsi alla condizione che tutta l'economia orientata a questo vedo tanta voglia di azioni di risarcimento e poca voglia di azioni di innovazione di implementazione delle professionalità per guardare all'obiettivo qualità come unico obiettivo per creare lavoro in servizio nei mercati e noi dobbiamo fare uno sforzo responsabile tutti su questo perché se colliamo anche questa occasione noi otteniamo due fatti davvero preoccupantissimi da una parte non costruire energie finanziarie in grado di permetterci di asciugare un debito che va verso somme esorbitanti si va verso il 160 per cento rispetto a quello che produciamo in anno in pil che è una cifra tra le più alte cifre del mondo insomma no quindi da una parte noi dobbiamo costruire una una condizione che mira alla alla qualità giocando molto sulla formazione dall'altro di costruire una un disegno economico che regga veramente perché altrimenti saremmo preda anche in questo tempo di popolismo appunto di mostruosità credo che nel mondo del lavoro oggi bisogna da una parte calcolare bene lo stanno facendo per la verità ma la questione deve essere più partecipata più non solo da parte sindacati ma partecipata fortemente lavoratore imprese e imprese per costruire modelli organizzioni del lavoro capaci in termini tradizionali di gestire appunto gli spazi per il lavoro e dall'altra bark working in termini diciamo così ancora ancora più forti perché si è dimostrato che la come si diceva poc'anzi questa attività è stata davvero un'attività felicissima ha incontrato l'esigenza d'impresa perché non hanno potuto dire che non si è più produttivi si è più produttivi e questa vicenda si è incontrata anche l'esigenza delle persone io ho visto molti amici che hanno lavorato ai smart working li ho trovati molto molto più sereni di prima meno stressati più gioviali più fiduciosi e così via quasi si vergognassero a dire che erano stavano meglio in un momento in cui si sta peggio quindi in questo senso bisogna lavorare molto per per fare contratti nuovi ecco questo interessa molto quello che dice anche leonardo contratti nuovi mirati bene allo sfruttamento ma smart working premiando le professionalità e retribuendo il lavoro in più che si fa sia nel tradizionale sia nello smart working il modello a cui mi rifaccio sempre è quello di maggiore produttività maggior taglio di tasse quindi maggior salario rivedere tutta la vicenda dell'organizzazione dell'orario di lavoro bisogna precisare meglio ciò che la ministra dice in queste ore che vuole appunto ridurre l'orario per utilizzare meglio l'orario per formarsi sul piano teorico io sono favorevole al 100% però questa cosa va indagata meglio per evitare i soliti scivoloni di sempre le solite scuse queste cose sono molto molto importanti quindi dobbiamo rivisitare tutta la la vicenda dell'organizzazione del lavoro sia fatta il smart working sia in fatto di tradizionale che tutto sconvolto o da ricomporre o ricomposto e rivedere gli orari di lavoro capendo come si retribuiscono questi orari e qual è il vantaggio del lavoratore qual è il vantaggio dell'impresa io credo che questi sono i problemi che il meridione insisto siccome c'è una voragine io non credo che ne esca con le solite chiacchiere che ho sentito nel corso dell'ultimo decennio il meridione ha una scossa fortissima a utilizzare ampiamente tutte le risorse tecnologiche che ci abbiamo che è l'unico modo per farli per metterli in condizione di saltare tutto il tempo perso dell'ultimo ventennio o altrimenti noi avremo problemi serissimi lì quindi il meridione parossalmente oggi ce la potrebbe fare più di prima qualora ci fosse un piano vero studiato e appropriato per le esigenze che c'è in quella terra bellissima purtroppo però molto 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 tormentata grazie raffaele sono d'accordo con te che c'è un problema di organizzazione sociale profondo al quale guardare con un grande senso di responsabilità e da molto tempo dico che il nostro è un paese che più che delle povertà emergenti espressione delle ricchezze negate quindi questo è certamente il tempo di dimostrare la verità di questo assunto in conclusione leonardo oltre che un auspicio direi anche con la pragmaticità che ha usato lo stesso raffaele se volessi in conclusione dare qualche indicazione che vada proprio in questa in questa direzione che sia qualche luce per la per la gente che ci sta seguendo ma come ha detto anche raffaele io credo che la parola chiave sia generatività non assistenza noi siamo felici se siamo messi in condizione di essere generativi questo vale sia dal punto di vista spirituale dal punto di vista familiare delle relazioni dal punto di vista economico creare le condizioni per una società generativa questo per esempio noi stiamo lavorando moltissimo sul tema del finanziamento delle imprese sostenibili una grande partita che c'è in questo paese per dire è schiodare questo grande risparmio che o va verso l'azzardo quindi un senso di rischio malinteso 120 miliardi buttati oppure magari è bloccato sui conti correnti ecco noi abbiamo lanciato uno slogan ma perché allora invece di puntare su una slot machine non puntare su giovani imprese con l'equity crowdfunding oggi è possibile magari si diventa soci del futuro Bill Gates comunque si gioca ma si gioca per far crescere qualcuno anche il welfare deve diventare generativo quindi non l'ultimo lo scartato non ha bisogno della nostra lemosina ma ha bisogno di un'opportunità di una chance per rimettersi in gioco così stiamo facendo appunto come si diceva prima per lo smart work addirittura parliamo di tre quinti come obiettivo per i ministeri adesso parlo del settore pubblico ogni settore poi ragiona in modo diverso è tutta una regolamentazione del post del comfort del posto di lavoro perché bisogna evitare le diseguaglianze digitali eccetera poi noi questa generatività l'abbiamo provata anche a sperimentare senza fare solo teoria e abbiamo avuto un'esperienza bellissima forse lo sai abbiamo lanciato questa piattaforma digitale con next che si chiama giosto che ha cercato in questo momento di difficoltà di aiutare le migliori imprese italiane quelle che l'economia della legalità l'economia carceraria che riduce del 75 per cento la recidiva e quindi è generativa per portare a casa degli italiani prodotti di qualità in un momento in cui i negozi erano chiusi supermercati c'erano delle file grosse e i prodotti non li trovavi beh come anche il resto dell'online abbiamo avuto questa esperienza incredibile più 300 per cento abbiamo aiutato anche il meccanismo del dono è molto bello sai che in questo periodo la spesa sospesa eccetera ecco la spesa sospesa anche online è bellissima perché tu carichi un carrello e poi invece di mettere il tuo indirizzo metti l'indirizzo di una persona cara di qualcuno che ha bisogno ecco quindi è stato un ripeto un periodo eccezionale dove abbiamo mescolato progetti per il paese con iniziative anche concrete io credo che la parola chiave resta questa della generatività se noi lo facciamo allontaniamo anche i vincoli che ci sono in questa società perché il dramma di questo che ci ha insegnato questo periodo è che quando ci avviciniamo a un vincolo dobbiamo scegliere chi ha diritto e chi no e allora lì diventa tragico magari è un letto di terapia intensiva o è noi dobbiamo lavorare perché la società sia generativa crea i valori e quindi questo vincolo così stretto così corto per cui non ce n'è per tutti dobbiamo cercare di allontanarlo più possibile abbiamo iniziato citando la bibbia sentendo generatività non possiamo non ricordare le parole del profeta esaia o dell'apocalisse che parla di cieli nuovi di terra nuova dunque si genera qualcosa di nuovo si avverte il bisogno di qualcosa di nuovo e questo è un forte impulso spirituale che c'è nel nel cuore della storia e che i credenti hanno la responsabilità di alimentare dunque rimanere connessi non è soltanto uno slogan ma sul piano comunitario è diventata una grazia abbiamo la necessità di rimanere collegati di stabilire nuove forme di collaborazione e mi pare che voi abbiate individuato ciò che ci sta davanti ma che necessita evidentemente della responsabilità di noi tutti delle nostre comunità dei movimenti delle associazioni e di tutto ciò che rende ricco il nostro il nostro paese rende ricco il nostro stato sociale dunque c'è un'avanguardia io ritengo rappresentata da noi i cristiani nel tempo della crisi sono stati un'avanguardia non solo di speranza ideale ma di una speranza che costruisce di una speranza creativa e creatrice dunque grazie per la vostra collaborazione grazie per la vostra presenza vi saluto con grande con grande affetto e spero di ritrovarvi presto anche deviso fisicamente perché abbiamo bisogno di lavorare insieme e di stare e di stare insieme quindi un grande abbraccio e ancora grazie per la vostra presenza per il vostro contributo oggi